Buonissime! Lime! Vediamo la lingua! Oh sì, fantastico! Sembra la festa irlandese di San Patrizio qui dentro! Sì, una rosa, la mia preferita! Gnam! Wow, una bocca vera! Sì, ce l'abbiamo fatta! Perché si muove tutto? Oddio! Guardate qua! Potrei mangiarne un milione! Oh sì, patatine! Senape rosa! Beh, è come non assaggiarla! Aspetta un attimo! Dato che è rosa, perché non rimanere in tema? Dai, Barbie! Pronti? È l'ora della maionese! Oh, non mi sento molto bene! Sì, eccola che arriva! Wow! È fantastico! Un po' disgustoso, ma super delizioso! Oddio, c'è qualcosa che non va! È bloccato! E dai, esci! Non hai finito qui! So che è lì dentro! Tutto libero! Oh, qualsiasi cosa per te! Grazie! Molto meglio! È un ottimo trucco! Torniamo al lavoro! Ecco qua! Grazie, Barbie! Che la festa abbia inizio! Ecco il boccone perfetto! Mmm, top! Alla prossima! Aia! Queste patatine mi finiscono sempre tra i denti! Devo tirarle fuori! Stuzzica denti, per favore! Grazie! Dov'è? No, questo è ancora peggio! Posso averne un altro? Grazie! Qualcuno ha chiesto uno stuzzicadenti? Arriva in fondo, eh! Ah no, non di nuovo! Troppo delicato! Proviamo di nuovo! Ehm, ehi! Ci sto provando! Sì, sarà incastrato! Dammeni un altro! Oh, eccolo! Ehm, è stato forte! Posso avere dell'acqua? Sono esausto! 25! Niente! Forza, senti il bruciore! Wow, che veemenza! Uh! Ehi, i capelli! Perché sono bloccati? No! Esatto, sono ancora qui! Dai, lasciami andare! Mai! Ehi, smettila! Ecco! No, no! Ci è mancato poco! Che schifo! La mia vita è finita! Accidenti! So come toglierla! E dai! Che mi stai facendo? Questo dovrebbe bastare! Andiamo via! Ah! Che schifo! Direi che è il momento di prenderne una nuova! Uh! Ne voglio una grande! È meglio che finisca le mie ripetizioni! Oh, sì! Ah! Oh, no! Forse posso... Ah! E dai! Ok, ci sono! Fiu! Uh! Oh, questo lascerà il segno! Aia! Ok, finalmente ci sono! Cos'era? No, non ha un bell'aspetto! Per fortuna ho comprato questo aggeggio! Le mie pareti mi ringrazieranno! Basta farlo scorrere sulla maniglia! Uh! Che bello! La misura perfetta! Direi di sì! Mi sento selvaggio! E libero! Un nuovo me! Sono non sono favoloso! È il momento di fare un giro di prova! Oh, sì! Proviamo! Funziona perfettamente! Visto? Come rimbalza! Ora sì che si ragiona! E vai! Wow! Ma quanto sono sexy! Potrei farlo tutto il giorno! Fantastico! Ok, non mi guarda nessuno! Sì! Finalmente sta aprendo la busta! Ma che chiasso sta facendo? Scusate, cerco di fare piano! Sbrigati! Apri la busta! Ma scherziamo! Ancora più rumore di prima? Sul serio? Stiamo cercando di guardare il film noi! Ancora un pochino! Oh, la festa è finita! Scusatemi! Vediamo, ce ne sono in giro! Sì! Scorpacciata di M&M's! Devo solo aprire la busta? Oh, cos'è tutta questa luce? No, la busta è aperta! Comincia la buffata! Oh, aiuto! Ci sballottano! Vi voglio mangiare tutti! Oh, tocca a me! Ho preso quella rossa! Deliziosa! Sono le mie preferite! Scegli me! Oh! Il colore è peggiore! Ma che fa? Mi ha rimessa dentro! È il mio turno! Il giallo è molto meglio! Oh no! Arriva gente! Guarda! Dei dolcetti! Sì! Ne avevo proprio voglia! Cos'è successo? Davvero? Ci stiamo annoiando un sacco qui! Beh, meglio di niente, immagino! Oh sì, voglio un baby avocado! No, non voglio il baby cocomero! Ah! Chi è? Svegliati! È ora di alzarsi! Oh, ma sta zitta! Va bene, buon riposino! Forse stavolta provo le maracas! Ehi tu! Ho detto che è ora di alzarsi! Oh, sta zitta! Ho detto voglio dormire! Svegliati! Cominciamo la giornata? Ma ce l'hai con me! Sei pronta finalmente a tirarti su? Odio le sveglie! Mi arrivano già notifiche! Sono importanti! Devi guardarle! Ma quante ne arrivano! Va bene, do un'occhiata! Mi fa il solletico! Quel video mi fa morire dal ridere! Sei un fenomeno a questo gioco! Quanto mi fa piacere sentirti! Ehi, guarda che ore sono! È tardi! Mi ha abbandonata qui! Farò tardissimo! Oh no! Il telefono è scarico! Che scocciatura! Meno male che ho la ricarica! Teniamolo un po' a fare il pieno! Ah, che fame! C'è niente di buono qui? No, grazie! Niente broccoli! Niente neanche nella credenza! Sto morendo di fame! Guarda, una banana! Oggi mi sto proprio rilassando! Quella sì che risolverà il mio problema! Ma chi è? Che vuole da me? È matura al punto giusto! Forza, sbucciamola! Oh, mi sa che è ora di cambiarsi! Sarà divertente! Vuole andare fino in fondo? L'ultimo pezzo! Sono così bella! Ok, in un boccone! Wow, hai fatto spesa! Guarda quante cose buone! Patatine o banana? Patatine, ovvio! Ma cosa fa? Mi lascia qui così! Non ci posso credere! Molto bene, ho sequestrato i vostri smartphone! Oh, devo nascondere il mio! Li avete consegnati tutti, sì? Zitto, telefono! Smettila, così ci farai beccare! Molto bene! Vediamo se avete studiato per l'esame! Ok, non mi guarda! Posso sbirciare il telefono? A questo compito prenderò dieci! Quanto mi diverto! Ehi, ecco la risposta per il quesito tre! Devo trovare le altre! Smettila! Mi fa il solletico! Non dobbiamo farci scoprire! Me la sono cavata per un pelo! Sto squillando! Guardatemi! Oh mio Dio! Per favore no! Zitto! Un telefono che hai imbrogliato? Porta subito qui quel telefonino! E va bene! Ecco a lei! Torna subito al tuo posto! Scusami! È che sono fatto così! Ok, ho preso tutto per la lezione! Guarda, non crederai ai tuoi occhi! Ma dai, incredibile! Hai visto? Guarda quanti like! Wow, complimenti! Voglio anch'io i like su TikTok! Vediamo dove posso mettermi! Lì è perfetto! Posiziono qui il telefono! Ok, via con le danze! Mi riposo un pochino qui! Oh, ma che fai? Fermati! Odio quando succede! Dove posso metterlo? Proviamo su quella panca! Forse andrà bene! Ok, eccoci qui! Secondo tentativo! Ok, come vuoi! Ciao, ciao! No, no, no! Fermati! Cavolo, è anche tutto sporco! Ecco, laggiù è il posto perfetto! I libri lo terranno fermo al suo posto! Fermati qui, ok? Non cadere! Sta di nuovo ballando! Come se questi libri bastassero! Questo smartphone mi farà impazzire! Rimedi drastici! Un po' di nastro adesivo e passa la paura! Oh, adesso sì che non mi muovo più! Stavolta mi tocca guardare tutto il balletto! Sì, finalmente ce l'ho fatta! Vediamo com'è andata! Ah, sì! Oh, ho bisogno di mangiare! Oh, ma guarda! Sono invitante, vero? Chissà che buone! Uh, mi diverto da matti! Mmm, ripensandoci! Ehi, qualcosa non va? Che c'è? Posso farla diventare più buona! Ma certo, con la panna montata! Niente di meglio da accoppiare alle fragole! Uh, ancora più divertente! Mmm, deliziosa! Assaggiamo! Mmm, wow, è ancora più buona! Ce ne vuole altra! Wow, è incredibile! Guarda quanta panna montata! La migliore merenda di sempre! Ah, che bella sensazione! È così morbido e soffice! Non mi annoia proprio mai! Sono d'accordo! Sì, proprio lì! È così rilassante! Sento tutta la mia tensione sparire! Non fermarti! Con quelle mani fai miracoli! Volevo dargli una bella strizzata! Forza! Dammi quello che voglio! Ehi, non era quello che volevo! Basta, per favore! Che cosa ho fatto? Ho esagerato! Sono un mostro! La torta è quasi pronta! Dobbiamo solo finire di decorarla! Con la panna non sbagli mai! Basta metterne ancora, più ce n'è! Meglio è, dico io! È una piccola sorpresa per lo chef! Lo so, ha un aspetto meraviglioso! Ma non ho ancora finito! Ho qui qualcosa di speciale! La completerò con questi biscotti! Sono così buoni! Oh, sei gentilissima! Potrei mangiarti in questo momento! Dici sempre cose così carine! Ma devo resistere! Devi andare qui! Cavolo, è il mio giorno fortunato! Mmm, fantastica! Beh, addio dieta! Sono le piccole cose a fare la differenza! Non so come ringraziarti! Sono nel paradiso dei dolci in questo momento! L'aspetto è buono, ma vediamo il sapore! Non vedo l'ora di provarla! Wow, sono un genio! Aspetta, che cos'è questo retrogusto? Oh oh, non mi sento molto bene! La vedo male, anzi, malissimo! Sto soffrendo tantissimo in questo momento! Ti prego, basta! È finita che sollievo! No, non pensarci neanche! Sembri super morbida! Per favore, parliamone! Sei mia! Devo pulire per benino! Oh, che orrore! L'orrore! Che mondo crudele! Era proprio buonissimo! Ah, posso sedermi lì? Che fortuna! Mmm, adoro gli hot dog! Sembra buono, ma manca qualcosa! E so che cosa! Ci vuole un po' di ketchup! Si sposa perfettamente con l'hot dog! Una spruzzatina! Io non esco! Non puoi costringermi! Forse se lo scuoto! Ehi, ti dispiace? Com'è che non funziona? Sta diventando fastidioso, sai? Ti piacerebbe se ti scuotessi così? C'è nessuno lì dentro? Credo di vedere qualcosa! Esci di lì subito! Mai, questa è la mia nuova casa! Penso che vomiterò! Ehi, sto cominciando a prenderla sul personale! Ha smesso finalmente? No! Mi prendi in giro! Mi è finito tutta addosso, puzzo di pomodoro! Non è un bel vedere! Ma il lato positivo è che almeno il mio dog ha il suo ketchup! Che bella giornata! Devo lavorare sulla bronzatura quando posso! Sarò dorata in men che non si dica! Ah, questa sì che è vita! È così bello stare all'aperto! Wow! Si è slacciata! Dammi un secondo! Ehi, guarda dove ti siedi! No, 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 no! C'è mancato poco! È meglio che l'allacci! Non vogliamo incidenti qui! Ehi, ho un'idea! Giriamo un video! Andiamo, Sunny! Sarà divertente! Ok! Ricorda come l'abbiamo provata! Ecco qui! Vediamo com'è venuto! Credo che ci siamo! Wow! Siamo in forma! Aspetta! Quello che cos'è? È mica! Cacca? No, non può essere! Toglimela di dosso! E io che pensavo sarebbe stata una giornata rilassante! La sfortuna è sempre dietro l'angolo, eh! Dov'è? Dov'è? Perché ti succedono sempre queste cose? Non è divertente! Vabbè, non fa nulla! Posso risolvere il problema! Sunny, siamo in pubblico! Che fai? Ti sfogli! Rilassati! È tutto sotto controllo! Hai davvero intenzione di farlo? Credo proprio di sì! Su, andiamo! Ah, che bella giornata! Mi sento così libera! Ma che cosa ho appena visto? Oh, aspettami! Wow! Guarda tutti questi gadget! Sono così fighi! Vorrei poterli acquistare tutti! Un nuovo aspirapolvere sarebbe utile! Oh, cos'è questo? Datemi da mangiare! Aspetta! No, non può essere! Credo di avere le allucinazioni! La 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 la! Odio i calzini puzzolenti! Woohoo! Ok, questa volta sono sicura di aver visto qualcosa! Eh, ehi! Dai, balliamo! Accidenti! Stai indietro! Ups! È tutto ok? Ci penso io! Na, 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 na! Dammene ancora! Devo uscire di qui? Che diavolo? Vai via di già! Guarda che sono un affare! Ah! Che cosa sta succedendo? Ora cosa c'è? Ehi, dacci un taglio! È tutto così strano! Stavo solo sognando! No, facciamo festa! Oh sì! Comprami! Sai che c'è? Non siete poi così male, ma non posso portarvi tutti a casa con me! Ok, mi avete convinta! È ora di aggiungere un po' di brillantezza ai miei capelli! Adoro questo gadget! I miei capelli sono fantastici! Ed è così facile da usare! Wow, sono così carini! Ne aggiungerò degli altri! Potrei farlo per tutto il giorno! Anche io! Oh, i tuoi capelli hanno un buon profumo! Che shampoo usi? Sono bellissima! È fantastico! Starei benissimo! Grazie, non avrei potuto farlo senza di te! Questo è l'ultimo! Grazie, amica! Uhuh, mi sento così carina! Abbiamo tutti bisogno di un po' di brillantezza nelle nostre vite! Oh, ciao, papà! Wow, eccoti qui, tesoro! Sei così raggiante! Dai, la cena è pronta! Ho un'idea migliore! Ti farò un bel makeover! Molto divertente! Ma dai, sarà divertente! Facciamolo! Hai paura? No, è che non ne sono entusiasta! Prendi questo! Ah, non pensavi che il tuo vecchio fosse così agile! Come mi diverto! Stai fermo! Wow, c'è mancato poco! Aspetta, mi hai preso! Wow, stai benissimo! Ce l'abbiamo fatta! Claire, smettila di giocare! Riprenditi! Scusa, stavo sognando ad occhi aperti! Guardami! Ehm, stai bene? Meglio di prima! Ma se sono ridicolo! Ehi, Naomi! Puoi aiutarmi? Ehm, ma quello è un fenicottero! Sì, è il mio nuovo amico! Ehi, è così carino! È così morbido e soffice! Oh, lo adoro! Oh, sì, mi piacciono tutte queste attenzioni! Ecco, proprio lì! Sei così fortunata! Dobbiamo andare! Ciao! Ciao, ci sentiamo più tardi! Mh, mi sta venendo fame! È ora di un po' di caramelle! Sono le mie preferite! Mh, come sono buone! Non preoccuparti, non mi sono dimenticata di te! Apri per bene! Spero ti piaccia! Mh, è molto gustosa! Voglio ancora! Ti piace? Puoi averne ancora! Ah, ho proprio tanta fame! Oh, sono così buone! Oh, oh! Devo fare la cacca! Non farlo sul mio banco! Non voglio dover ripulire la tua cacca! Ma dov'è il water? Oh no, l'ho lasciato a casa! Accidenti, sono in ritardo per la scuola! Forza, dobbiamo andare! Oh, non posso credere di essermene dimenticata! Mi dispiace, dammi un attimo! Scusate, questa è un'emergenza! Ma che problemi ha quella? Non posso trattenerla ancora per molto! Sbrigati, Claire! Devo trovare un bagno! Ce ne deve essere uno qui intorno! Devo sbrigarmi! Potrei andare dietro a un cespuglio! Tempi disperati richiedono misure disperate! Ma sul serio? Non c'è alcun bagno! Temo che dovrò farla proprio qui! Cos'è quello laggiù? Finalmente! Ah, ma non si apre! Forza, fammi entrare! Questo gioco è così bello! Non resisto più! Perché ci sta mettendo così tanto? Per favore, fammi entrare! Troppo tardi! Oh, ci sarà un mocio qui intorno! Che figura! Quando scappa, scappa! Sono tornata! Spero di non essere in ritardo! Temo di sì! Facciamo finta che non sia successo! Non lo diremmo a nessuno! Facciamo finta di niente! Questo libro è così interessante! Uh, la lezione è finita! A dopo! Ora posso scatenarmi! Oh, sì! Uh-huh! Oh, il mio AirPod! Addio, sfigata! Io me ne vado! Che cosa? Torna qui! Prendimi! Non mi avrai mai! Non costringermi a correrti dietro! Il dolce profumo della libertà! Oh, non andare! Aspetta, dov'è? Ehi, non così in fretta! Oh, cosa è questo coso? Salta su! Sei così vicino! Vieni qui! Ti ho quasi preso! No, no! Devo nascondermi! Dov'è finito? Sono sicura di averlo visto un minuto fa! Non posso averlo perso! Mi serve! Immagino sia perso per sempre! L'ho ingannata! C'è mancato poco! Ah, non credo che mi abbia visto! Aspetta, quello era... Oh, è ora di andare! Nah, la mente mi sta giocando dei brutti scherzi! Non mi arrenderò! Qualcuno ha visto il mio AirPod? Mi manca così tanto! Qualcuno mi aiuti! Qualcuno ha visto la mia padrona? Ehi, ragazza! Quaggiù! Devo attirare la sua attenzione! Che diavolo? Oh, un AirPod! Sta arrivando! Non sono mai stata così felice! Ah, che bello! Beh, almeno te! Andiamo, non abbiamo più bisogno di quell'altro! La 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 la! È così difficile! Non vedo l'ora che finisca questa lezione! Meno male, ho finalmente finito! Ora posso andare a casa, ci vediamo! Eh? Eh, oh, che schifo! Ma guarda, è enorme! Eh? Cosa ha detto? Aspetta, ho qualcosa dietro al collo! Non sento niente! Aspetta, è un brufolo! Fammi vedere! Non riesco a vedere niente! Devo trovare un'angolazione migliore! No, ancora niente! Oh, che strazio! Forse potrei usare il mio telefono! Per favore, non farlo! Dico sul serio, mi impressiono facilmente! I brufoli mi fanno vomitare! Così ci dovrei riuscire! Possiamo parlarne! Farò solo qualche foto! Vedi qualcosa? Sì, e fa schifo! Smettila di puntarmi contro qualcosa! Oso e rimarrà impressa nella mia mente per sempre! Avrò gli incubi stanotte! Ora basta, ho chiuso! Addio mondo crudele! Ah, che dolore! Non credo sia stata l'idea migliore! Sarà ancora intatto! Spero non si sia rotto! Sta bene! Ora vediamo quel brufolo! No! Che cosa? Ma hai visto? Perché ha fatto una cosa simile? Cos'è questo schifo? Ah, un messaggio! Come gli è venuto in mente? Che brufolo enorme! Ah, una buona tazza di tè! Oh, Miles non si dimentica mai di sua nonna! E io, come vorrei che lo facesse! Dolce vendetta! È terribile! Ora come farò? La mia vita è rovinata! Eh, Miles! Che c'è? Ho ricevuto il tuo messaggio! Non ricordarmelo! Non è poi così male, vedi? Ehi, siamo amici di brufoli! Lo siamo di sicuro! Abbiamo così tanti in comune! Oh, è bello grande! Forse era per il meglio! Andiamo a un'idea! Oh sì, quanto mi piace! Quanta roba! Mi rendi così felice! Che giornata! E ora mi rilasso! Oh, cosa ho sul naso? Un brufolo! Ma enorme! Ehi là! Non male come posto per uscire! Credo che mi accomoderò qui! Uffa, troppo per i miei detergenti! Oh, so cosa fare! Lo coprirò con il make-up! Smettila! Sono allergico! E ciù! Smettila! Ma non ho fatto niente! Col correttore dovrebbe coprirsi! Mi sento bellissimo! Ma non è il mio colore! Oh, ma dai! Qui ci vogliono misure drastiche! Ehi, non farlo! Parliamone un attimo! Mi dispiace! Amici come prima! Nah, io non me ne vado! Che fastidio! Aspetta, questa è la classe di chimica! È una struttura molto semplice! Che noia! Facciamoci un selfie! Oh, ok! Che succede lì? Togli subito il telefono! Veloce da qua! Sto solo cercando di divertirmi! La chimica non è divertente! Come dicevo! Wow, che bocca pulita! Sicuro usa il filo! Divertiamoci! Oh sì, so come divertirmi! E posso usare questa gomma! Per fortuna ho una bella mira! Vediamo cosa colpire! Obiettivo acquisito! Oh, bella idea! Ok, sono pronta! Vai! Fuoco! Sto volando! Cos'è stato? Oh, che carino qui! Voglio proprio restarci per un po'! Jared! In punizione! È stata Lizzie, davvero? Non è vero! Non sono stata io! Devo toglierla! Wow! Oddio! Devo tenermi forte ai capelli! È appiccicata! Oh, sono intrappolata! Aia! Eccola! Disgustoso! Sono arrabbiata! Non so di cosa tu stia parlando! Toglimi questa roba di dosso! Ehi! Serve una mano? Che odorino queste patatine! Non vedevo l'ora da stamattina! Oh, che bello! Bello! Ho una fame! Ketchup e patatine! Gnam! Quale dovrei mangiare per prima? Ehi, guarda qui! Ehi, come va? Scegli me! Quanta scelta! Questa? Nah! E questa? Me! Me! Prendi me! Sono salatissima! No, prenderò questa! Lo sapevo! Nessuno può resistermi! Aspetta un secondo! Ketchup? Ora sì che si ragiona! Insuppami! Continua! Un altro po'! Oh sì, che bello! Mi sento da Dio! Wow, come le sta bene il ketchup! Che icona della moda! Buonissima! No, perché l'hai fatto? Era così giovane! Mamma mia! Potrei mangiarne tantissime! Mi sento male! Non farlo, per favore! Ehi, ma dove sono finite? Che noia! Eh, non mangiarmi! Salve! Mi fanno malissimo i denti! Posso entrare? Stavo, ehm... Facendo pratica! Prego, siediti! Deve aiutarmi! Non ti preoccupare! Me ne prenderò cura! Sarà un gioco da ragazzi! Apri bene! No! Dai, non fare lo sciocco! Stia indietro! Va bene! Bè! Funziona sempre! Riesco a vedere qualcosa! Qui c'è una festa e tu sei invitato! Devo guardare meglio! Ehi ragazza, un po' troppa luce! Dai, sta rovinando l'atmosfera! Per fortuna sono attrezzato! Fammi pensare! Sì! Un po' d'acqua e puliamo! Wow! Ok, la doccia per oggi è andata! Non ha funzionato! Me ne serve uno più... Industriale! Aha! Sul serio? In effetti, ora che ci penso, l'ultima volta c'erano denti ovunque! Con le pinze dovrebbe andare! Ecco qua! Uh! Mi hai mancato! Difficile! Pensavo di averlo preso! Lascia stare! Non è divertente! Non me ne vado! Ah! Presa! Una caramella bella grossa! Wow! Già sto meglio! È un miracolo! Grazie! Figurati, è il mio lavoro! Wuf wuf! Torna indietro! Ricordati che sei una dottoressa! Che bella giornata! Proprio ciò di cui avevo bisogno! Che buono! Cosa? Una chiamata! Ma... Il mio gelato! Lo metto giù per un secondo! Ciao! Come stai? Lo so, fa caldissimo! Ah! Che giornata! Ehi, fai con calma! Tanto io prendo un po' di sole! Caldino, eh? Si inizia a sudare qui! Nah! Se solo ci fosse un modo per raffreddarmi! Ehi! Yuhu! Mi inizia a sentire caldo! Dovresti venire! Sono in piscina! Ti piacerebbe? Il bagnino è carino! Non ce la faccio più! Ti sei dimenticata di me, non è vero! Mi sto sciogliendo! Mi sto trasformando in un budino! Assurdo andarsene così! È una cosa seria! Addio, mondo crudele! È stato bello conoscerti! Aspetta! Oh no! Il mio gelato! Oh, era buono! Non lo voglio! Scusa! Comunque credo che il bagnino abbia un amico! Eh! Non ci credo! Lizzy, guarda qua! Già, pazzesco! Guarda qua! Troppo divertente! Devi vederlo! No, grazie! Non so come fanno! Mi serve uno snack! Forse dovrei offrire! Vuoi un morso? Dai, so che lo vuoi! Jared! Scusa, non c'è bisogno di urlare! Oh, ho un'idea! Sarà pazzesco! Devo solo aspettare! Ma dove sono? Ehi, che succede? Non funziona! Devo farlo con le mani, mi sa! Una bella strizzata! Oddio, sembra una cacca! Perfetta! Non vedo l'ora di vedere la faccia di Lizzy! Ma dai! Sono buonissimo e mi tratti così! Eh, Lizzy? E ora che c'è? Andiamo, mi annoio, dai! E va bene! Non mi sta piacendo questa cosa! Aspetta! No! No, per favore! Sì, e vai! Ha funzionato! Ma che schifo! Chiedi caccosi! Ma che ho fatto per meritarmi questo? Cosa? Sei un ragazzino! Oh, zucchero filato! Buono! Grazie, amico! Me lo gusto per bene! Mmm, è rinfrescante! Oh, che gentile! Buonissima! Ok, ho un'idea! Farò scivolare via il bastoncino! Ah, quel colore mi stava così bene! Lo schiaccio per bene! E lo immergo nella bevanda! Avrà un sapore incredibile! Wow! Che botta di zuccheri! L'adoro! E' il momento di sudare un po'! La lascio qui! Così non la dimentico! I miei follower andranno matti! Mmm, dove potrei metterlo? Qui andrà bene! Le lenti sono così sporche! Ok, iniziamo! Alziamo il volume! Ragazzi! Ho delle nuove mosse per voi! Così non va bene! Oh, c'è mancato poco! Ok, riproviamo! Ho il ritmo nel sangue! Ci vediamo? No, no! Perché continua a succedere? Così va meglio! E' davvero imbarazzante! Pensa di saper ballare! E' proprio buffa! Che ve ne pare? Bello, no? A posto così! Io stacco! Ecco un nuovo pass! Oh! Davvero? Me ne vado! Oh? E' possibile? Devi stare fermo qui! Questa bottiglia farà da supporto! Attorciglio l'elastico e lo faccio scivolare intorno alla bottiglia! Poi lo uso per sorreggere il telefono! Balliamo! Ok, vediamo che c'è in tv! Mmm, pistacchi! Li adoro! Rompere il guscio è la parte divertente! Crocatti! Questo film è interessante! Eh? Ne è rimasto solo uno? Forza! Apriti! E' durissimo! Magari con i denti! Che pena! Smettila! Mi prendi in giro? Scherzavo! Lo giuro! L'hai voluto tu! Ah! Cosa? Quegli esercizi in palestra danno i loro frutti? Fatto! Saluta questo seghetto! Deve funzionare! Wow! E' un pistacchio resistente! Mi ha fatto il solletico! Farò un disastro! Ecco che arriva! Oh, andiamo! Il trapano! Tutto qui? Mi arrendo! Che succede? Nah nah! Forse posso aiutarti! Trovato! Guarda bene! Per aprirlo devi usare un guscio! No! Tutto ma non questo! Incastra il guscio e ruotalo! Facile, facile! Non ti vergogni? Non serve ringraziarmi! Wow! Grazie! Passamelo pure! Non credo proprio! E' mio! Devo andare! Sono felice di uscire con te! Anch'io! Come va? Benvenuto alla festa! Non ci fermiamo mai! Aspetta! Questo arancione mi sta bene? Cos'è quello? Fuori di qui, amico! Evento privato! Gli faccio vedere io! Questa è la nostra zona! Mangerei patatine tutto il giorno! Creano dipendenza! Sembrano buone! Molto buone! Mi piacerebbe assaggiarle! Spero che lo smalto si asciughi presto! E' molto carino! Mi sta venendo fame! Ne vuoi una? Non posso! Mi rovino lo smalto! Davvero? Ho un'idea! Che fai? Dammela! Devi essere più veloce! Come sei cattivo, Matthew! Mmm! Deliziose! Davvero buone! Matthew! Smettila! Ci sarà un modo per mangiarne una! Oh! Ma certo! Che stai facendo? Guarda bene! Aiutateci! Mi hanno preso! No! Furbo, vero? Wow! Impressionante! Ne vuoi ancora? Userò le mani! Che partita! Devo prendere le mie cose dall'armadietto! Oh! C'è un odore forte! Devo infilare questa palla! Perché non entra? Ouch! Piano! Forza! Oh! Ehi! Ciao! Continua pure! Questa sì che è vita! Cavolo! Partita spettacolare! Siamo diventate inseparabili! Che strano! Ops! Colpa mia! Vi abbiamo dato una lezione! I soldi! Li metto nell'armadietto! La prudenza non è mai troppa! Al prossimo allenamento! Ouch! Te lo sei meritato! Che strano! Vabbè, devo andare! Sei così forte! Wow! Mi hai salvato! C'è mancato poco! Non posso permettere che succeda di nuovo! Che musica! E che snack! Sta piovendo! Corri! Sbrigati! Mi sto bagnando! Questa lana è ottima! C'è mancato poco! Ok, senti queste barre! Pronto? Che succede laggiù? Ok! Check! Check! Check it out! MC Matthew nella casa! Ehi! Abbassa il volume! Sul serio? Sarà una bellissima sciarpa! Perché non spegne l'apparecchio acustico? È una biblioteca! Non una discoteca! Niente musica alta qui! Via! E quanto a te! Ti tengo d'occhio! I giovani d'oggi! Incredibili! Questo posto è super noioso! Beh, un imprevisto! Ma so come fare! Posso usare le cuffie! Perché succede sempre! È davvero fastidioso! Mano sinistra! Giallo! Non sono così flessibile! Ci vorrà una vita! Però magari... Può aiutarmi! Non riesco a scioglierle! È questo che fate voi giovani nel tempo libero? Wow! Grazie mille! Ora posso tornare alla musica! E nessuno lo scoprirà! Sì! Forza! Spacchiamo tutto! La 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 la! Sembrano i lamenti di un gatto! Ok! Meglio andare! La rimetto in tasca! Non così in fretta! Da qui! Ti mostro un trucco! Allunga il cavo! Lunga vita al rock! Arrotola il cavo intorno alle dita! Un po' come lavorare a maglia! Così non si intrecciano più! Wow! Incredibile! Yeah! Woohoo! Grazie ancora! Spero che le mie anche reggano! Sono strano le dita! Una succosa fetta d'anguria! Questo coltello sarà utile! Sbarazziamoci di questi cosi qua! Non male! Pelle liscissima! L'ultimo! Gnam! Che buono! Che giornata! Sono contentissima di essere a casa! Voglio solo lanciare le scarpe e rilassarmi! Ah! Che bello! Oh! Che carino! Ciuf ciuf! Oh no! C'è un castello di mezzo! Niente può fermare questo treno! Arrivo! Wow! Bello tosto! Ciuf ciuf! Matthew non farlo! Oh no! Che disastro! Ci sono Lego ovunque! Non posso camminarci a piedi scalzi e non voglio rimettermi le scarpe! C'è solo una cosa che posso fare! Attenzione! Oh! Quasi lo prendevo! Oh! Attenzione! Non ci calpestare! Ci siamo quasi! Ce l'ho fatta! I miei piedi delicati sono al sicuro! Oh! Oh! Un piede scalzo! Ora ci divertiamo un po'! Via! I miei piedi! Cos'era? Oh no! Sono nei guai! Na na! Ma perché c'era un lecca-lecca per terra? Ehi! Volevo mangiarlo dopo! Aia! Che male! Oh! Povero tesorino! Per favore non piangere! È tutto ok, tesoro! Non ci credo che Jake lo abbia fatto! Wow! Che ridere! È l'ora di uno spuntino! Caramelle! Quanto mi piacciono! Apri bene! Oh! Ok! Vediamo cosa posso fare qui! Oh! Apparecchio fisso! Wow! Buona! Ma mi si è incastrata nell'apparecchio! Con questo suzzicadenti dovrei risolvere! Ma che... Dammi qua! Eh? Ok, è stato inutile! Questo non mi serve più! Proviamo con una gomma! Dovrebbe funzionare! Ehi tu! Dobbiamo parlare! Non di nuovo tu! C'è solo un modo per finirla! Forza! Iniziamo! Aia! Perché sei così cattiva? Andiamo! Ha funzionato! Wow! Bella schifezza! Perché è così in ritardo? Aia! E questo da dove è uscito? Che strano! Ehi! Un lecca-lecca gratis! Non mi lamento eh! Che bello! Sarà un peccato danneggiarlo! Aia! Cos'era? Oddio ma... È il mio dente! Torno a casa! Questo lo prendo io! Funziona sempre! Mwahahahaha! Che paura è questo film! Bleh! Non mi piace Matthew! Stai scherzando? È bellissimo! No! Non andarci! Non posso vederlo! Smetti di masticare così forte! Hai detto qualcosa? Dammi quel pacchetto! Non sento il film! Oh no! Non farlo! Non farlo! Cosa? Come? Grazie! Bravo ragazzo! Mangia tutto! Mi prendi in giro! Ecco! Meglio! Oh dai! Ma fai sul serio! Non potrai mai scappare! Ora è diventata una questione di principio! E ora che fai? Troccanti! Non ce la faccio più! Ehi! Te la sei cercata! Beh! Almeno ho le patatine! Ma lei lavora qui! Che carine che siete ragazze! Niente più ruminare fastidioso! Ciao ciao! Finalmente è finita! E l'essere umano ti ha messo nel secchio! Queste strade sono sempre più pericolose! Oh che fame che ho! Ma che mi mangio? Insalata! È una grande idea! Buona, sana e gustosa! Spero di avere tutti gli ingredienti necessari! Vediamo un po'! Ehi! È bello passare del tempo insieme! Prendi me! Prendi me! Sono carina e croccante! Forza! Sai che mi vuoi! Cosa scelgo? Guardami! Non sono adorabile! Ok! Oh sì! Avete visto anche voi? Mamma! Anche questi ci stanno bene! Mi ricordo quando ero solo un seme! Oh ciao tesoro! Mi sa che mi avete perso! Beh! Questo non lo mangio! Questo va dritto nella spazzatura! Sto volando! Beh! Ma perché? Aspetta un po'! E vai! È l'ora della colazione! Oh! Sono stanchissimo! Gnam gnam! Papà deve farsi il caffè tesoro! Mmm! Arabica 100%! E questo cos'è? Oh giusto! Devo dare da mangiare a Lizzie! Ho fame papà! Oh! Una ricetta! Sembra facile! Posso farcela pure io! Padella e uovo! Guardatemi! Sono un cuoco! Apriamo questo uovo! Oh! Finalmente libera! Forse se accendi i fornelli è meglio! Abbronzatissima! Sotto i raggi del sole! Cibo! 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 Cos'è questo odore? Papà! Cosa? Sono sveglio! Oh! L'uovo! Wow! Il pavimento è lava! Aiuto! E ora che faccio? Oh sì! Forza! Wow! Wiii! Ehi! Vedo il frigo da qui! Oh! Cos'è questo? Mi dai una mano? Beh! Sempre cibo è! Ah! Croccante! Ottimo lavoro, papà! Forse dovrei cucinare più spesso! Beh! Wow! Figo questo gioco! Forse per te! E ora della buona pizza! Oh! Fammi assaggiare! Hai ragione! È super buona! Ne voglio un'altra fetta! Hai le mani calde! E grasse! Non mi sono mai sentita così! Oh! Matthew! Sì! Giusto! Ma ti immagini? Prendila tu! No! Vai tu! È tua! Insisto! Mi sto raffreddando ragazzi! Oh sì! Davvero! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ragazzi! Niente ancora così! Per favore! Prendila tu! Oh! Ok! Cosa? Era per gentilezza! È mia! Non così in fretta! Matthew! Dai! No! È mia! Dammela! Ragazzi! Ma che fate? Oh no! Che vergogna! Basta! La voglio! In realtà non ne sono così sicuro! Eh! Non la voglio! Mi volevate solo per il condimento! Mi sento usato! Ti sei mai chiesto cosa direbbe il cibo se parlasse? Forza! La prenderò al volo! Wow! Sei così forte! Cos'è questo suono? Sta per scoppiare! Non è stata una buona idea! C'è solo un modo per fermarlo! Ah! Delizioso! Aspetta! Stai comprando un'auto? Impazzirai quando la vedrai! La ricreazione è già finita! Ma non riesco a mangiarla! Ciao banana! Andiamo! Wow! Che dolore! Sicuramente lascerà un segno! Attenzione! Ci sono io qui! Signorina! Guardi in basso! No! Oh? Wow! Questo pavimento si è trasformato in una pista di patinaggio! Ci è mancato poco! No! Sta ancora scivolando! Ah! Aiuto! Qualcuno mi fermi! Non riesco a rallentare! Quanto meno mi sono fermata! Che schifo! Sono dove dovevo essere! Tutti sanno che una ciotola piena di oreo significa festa! Ho i biscotti! Il mio vero amore! È tutto il giorno che ne voglio uno? Manca solo una cosa importante! Cosa c'è ragazzi? No! Non lasciate che mi prenda! No! C'è solo un modo per mangiare questi biscotti! Ridancelo! Ti ricorderò per sempre biscottino! Non lasciarmi cremina! Veramente deliziosi! Questi non mi servono! Siamo rimasti soli! Dove troveremo un'altra cremina? Niente è meglio di un pranzo salutare! Iniziamo! Questo condimento è perfetto! Per non parlare dei crostini! E come ultimo boccone... Sali sulla forchetta! Cosa ti prende? Non ti lascerò qui da solo! Ah sì? Arrenditi pomodoro! Senti, smettila di giocare! Siamo tre contro uno! Vieni qui! Non ci penso nemmeno, cara! Cos'è quello? Della polvere? Come va? Potremmo diventare amici! Così nessuno potrà mangiarmi! Fantastico! Immagino che questo sia la fine! No! Non toccarmi! Oh, che schifo! Non si avvicinerà alla mia bocca! Ci vediamo! Che profumino questa pizza! Ciao, porzione extra di formaggio! Chi è? Niente cibo spazzatura! Ehi! Cos'è tutta questa roba? Ecco! Ti ho portato uno snack! Eh eh! Una scatola per pizza? Stai mangiando del cibo spazzatura? Non davanti a me! Mi ringrazierai dopo! Mamma, aspetta! Non preoccuparti per me! Rimarrò qui! Felice giorno delle pulizie! Questo posto ha bisogno di una pulita! Così! Santo cielo! Cos'è quello? Pensavo che nessuno mi avrebbe trovato! Come va? Disgustoso! E che odore! Ehi! Dove mi stai portando? Potrei vomitare! Che maleducata! Accidenti! Questi video sono divertentissimi! Oh! Ok, è ora di dormire! Quasi dimenticavo! Non ha ancora perso il suo sapore! La conserverò per dopo! Uh! Una vista fantastica da qui! Guarda quanti capelli! Buonanotte mondo! Ecco fatto! Ah! Così comodo! Anch'io sono stanca! È così soffice qui! È già mattina! Ho dormito come un sasso! Ehi! Cos'è questa roba? Oh! Avrei dovuto immaginarlo! Ah! Che casino! Ma è così comodo! Non va bene! Ehi! Dove stiamo andando? Forse dovrei darci un taglio! Un coltello? Zoi! No! Non posso farlo! Forse dovrei solo congelarla! Le basse temperature fanno miracoli! Sto congelando! Fantastico! Non sento più le braccia! Sto cadendo! Ha funzionato? Sì! Ci è mancato poco! Ciao! Posso avere un gelato? Non immaginavo fosse così grande! Spero di avere le chiavi! Dove diamogli sono finite! Pensi di metterci molto? No! Non dirmi che lo dimenticate! Oggi il sole è così caldo! Mi sento come se mi stessi sciogliendo! Non so quanto ancora potrei resistere! È arrivata la mia ora! Trovate! Sapevo di averle lì dentro! Oh no! Ecco altri soldi buttati! Che spreco! È come se le cose non potessero peggiorare! Sai che questa pattumiera puzza? Finalmente posso giocare col pop-it! Prendi questo! E questo! Mi sento molto meglio! Io non molto! Ehi! No! Stop! Questo antistress è fantastico! Potrei usarlo sempre! Cos'hai fatto? Addio mondo crudele! Il mio pop-it preferito! Perché? Che c'è che non va, tesoro? Il tuo pop-it! È rovinato! Tranquilla! Ne ho altri! Oh! Grazie mamma! Sono troppo vecchia per questo! Non c'è niente come un bel bagno rilassante! Ora devo asciugarmi! Pronto? No! Non ho programmi! Resto a casa! Cosa ha fatto? È incredibile! Mi sento così vivo! Ecco! Proprio così! Questo look mi dona molto! Dovremmo farlo più spesso! Mi sembra di essere in paradiso! Ah! Pronto? Ci sei? Avevo sentito qualcosa! Non importa! Ehi! Il zolletico! Ha detto! No! Non ci credo! Non so nuotare! Aiuto! Spero non si sia rovinato! Ah! Acqua del water! No! Volevo fare così tante cose! Che succede? Dio! Sei tu? Aspetta! Oh! Riso! Funziona! Temevo di averti perso! Grazie! Ah! Le mie stampe sono pronte! Un altro paio di copie! Ecco a lei, signore! È adorabile! Un giorno avremo delle piccole copie di noi stessi! Ma che? Questo come ci è arrivato qui? Ti amo! Mua! No! Non è possibile! Dai, Henry! Te lo stai immaginando! Premi i miei pulsanti! Ciao, Henry! Hai un minuto? Volevo usare la fotocopiatrice! Posso? Certo! Carini i tuoi occhiali! Oh, Henry! Certo! Dico sul serio! Valorizzano davvero il tuo viso! Grazie! Facciamo questa copia! Strano! Non funziona! No! Non lo faccio! Io... Mi dispiace! Di solito non dà problemi! Forse se spengo e riaccendo! Oh, che incubo! Henry era... Tu! Ci riusciamo! Hai il tocco magico! Hai il tocco magico! Ti piace questo? Mi dispiace! Non succede mai! Grazie! Userò quella in corridoio! Finalmente soli! Solo io e te, Henry! Per sempre! No, non l'ho fatto! Ho parlato con lui solo per un minuto! Non è piacevole! Smettila! Mi stai rovinando i capelli! Li ho appena sistemati! È carino, certo! Non voglio chiedergli di uscire! Ok, forse lo farò! Non già con la bocca chiusa! Ma che maleducata! Che fai stasera? Vuoi uscire? Fermati! Fa male! Disgustoso! Ti richiamo! La scrivania! Che pasticcio! Meglio pulire prima che arrivi la mamma! Forse posso usare questo! Perfetto! Ora ho macchiato la camicia! Che stai facendo? Per favore! No! Così è molto più veloce e più facile! Fatto! Sì! Che succede qui? Mamma! Nascondiamo la macchia! Ecco! Non lo saprà mai! Sembra tutto ok! Non succede niente qui! Bene! Sono orgogliosa! Grazie mamma! Devo cercarmi un nuovo lavoro! Che giornata! Sistemiamo la spesa! Che caldo! Prenderò un bicchiere di latte! Molto bene! Ci vorrebbero dei biscotti! Uno strappo alla regola! Mi sei mancata! Dove sei stata? Che ingrata! Che buon odore! Ne prendo solo uno o due! Ehi! Questo è per me? Adoro il latte! Scendi da lì! Ciao! No! Adoro il latte! Stop! Giù! Cattiva gattina! Scusa! Hai detto qualcosa? Via dal bicchiere! Peli! Che peccato se questa borsa cadesse! Dimmi che non l'hai fatto! Che è successo? Chi ha spento le luci? Aiuto! Batuffola! Gattina cattiva! Sono cieca! Ci vedo! Sono proprio arrabbiata! Non posso arrabbiarmi con te! Sì che posso! Sei una! Guarda che faccia carina! Chi è la gattina più bella? Sei tu! Sì! Sei tu! Gli umani sono stupidi! Ok ci vediamo allora! Ci divertiremo! Ciao! La sua pasta signora! Buon appetito! Oh che bella! Sembra buonissima! Farò una foto per Instagram! Ok! Solo un'altra! Ehi! Fai delle foto? Prendi il mio lato migliore! Cheese! Se lo sapevo mi rifacevo l'acconciatura! E avrei indossato qualcosa di più scintillante! Aspetta! Un'altra posa? Com'è questa? Dovrebbe bastare! Ok! Non è il massimo! No! Oh! Terribile! Cancella! Mi serve qualcos'altro! La salsa! Cosa? Metti la giù! No! Posso fare di meglio! Solo un'altra foto! No! Hai rovinato il mio vestito! Così va meglio! Guarda! Ti piacciono queste pose? Spero che non riceverai neanche un like! Ancora un aspetto orribile! Elimina! No! Ci rinuncio! Ho troppa fame! Sei un mostro! Ho una famiglia! Mendi questo! Che mi dici ora? Non è così bello, vero? Ciao, piccola! Cara, hai qualcosa sulla faccia? Devo andare in bagno! Aspetta! Non è così grave! Ho detto qualcosa di male! Oh, Joy! Sei così divertente! A chi sta scrivendo, Julie? Oh, nessuno! Posso inviare dei messaggi anche io! Ora le faccio vedere io! Leo, calmati con quelle emoji! Leo! Ehi, che si dice? Sto bene, eh? Un emoji nella vita reale! Come ho fatto questo tizio ad entrare? Oh! È il mio telecomando! Ma che cosa sta succedendo? La mia lampada! No! Fatelo smettere! Ah, finalmente ho finito di lavorare! Wow! Che bello rivederti, Julie! Ciao, almeno credo! Che strano! Va bene se accendo l'aria condizionata! Ti posso aiutare io se vuoi! L'aria è troppo forte! Ecco qua! Grazie! Nessun problema! Uh! La tua cintura di sicurezza è illegale guidare senza! La sicurezza prima di tutto! La sicurezza prima, certo! Pronto? Sì! Ora andiamo! Sarebbe bello sentire un po' di musica! Ti piace la musica mariace, Julie? Uh-huh! Sì, scatenati! Sì! Più forte, più forte! Sì, sono troppo forte! Ma che figo! Uh-huh! Ah! Che ci fa quel gatto in mezzo alla strada? Oh, l'ho quasi colpito! Spostati subito, signor Whiskers! Esatto, continua ad andare! Ehi! Che ci devi fare con un megafono? Ssh! Posso guidare in pace adesso? Non ci sono più gatti, giusto? Ehi! Vedo un parcheggio! È tutto mio! Ecco! Aspetta! Stiamo facendo retromarcia, gente! Piano! Piano! Stiamo ancora facendo retromarcia! Quasi! Sei sicura di quello che fai, Julie? È tutto ok! Ok, ora vai indietro! Piano! Va bene, basta, basta! Grazie per l'aiuto! Come ho fatto? Pensavo di essere arrivata al limite! Immagino che ci dovrò riprovare! Ho tanta sete! E questa bibita gassata mi sta chiamando! Le bollicine stanno arrivando! Devo solo versarla senza farla rovesciare! Gah! Che strano! Ah! Ma dai! No! Oh! Sta rotolando! E si muove anche abbastanza velocemente! Prendimi se ci riesci! Oh no! Qualcuno fermi quella bottiglia! Sto solo facendo un po' di casino qua giù! Uh! Ehi! Chissà come sarà là fuori! È ora di scoprirlo! Addio! Uhu! Che bella giornata! Rallenta! Dov'è andata? Eccomi! Sto solo rotolando nell'erba! Uhu! Non mi fermerò mai! Phew! È come se avesse delle ruote! E guarda come sei sporca adesso! A me il bicchiere nemmeno serve! Finalmente! Eh? Sta piovendo! Non mi dice affatto bene! Vediamo un po'! Ci sto! Sono un Picasso moderno! È già così carino! Ti piace? Ah! Chi sto prendendo in giro! Farò molto meglio questa volta! Ecco! Molto meglio! Ah! Ma è impossibile! La terza volta andrà meglio! Devo solo ottenere la forma giusta! E aggiungere un po' di colore! E ho finito! Oh! Ok! Mi arrendo del tutto! Ecco! Che cosa è stato? Oh! Oh! Ah! Sei vivo! Prenderò questo per te, Jules! Grazie, almeno credo! Sei molto gentile! Devo dargliene ancora? Tieni! Bella presa! Mi sto divertendo! Quante cose posso lanciarli? Non sei ancora stanco, eh? Oh! Figo! Puoi fare qualcosa di più impegnativo? Posso gestirlo! Mmm! Ok! Uh! Questa sì che è diversa! Haha! Come sto così? Infatti, vero! Ecco che arriva! Uno spuntino! Mmm! Buona! Il mio film preferito! Presa! Guarda la macchina! E ora l'hanno rubata! Sì, li ho presi tutti, grazie! Non potrò reggere per molto ancora! Salve, strano bulbo oculare arancione! Oh! Oh! Rar! Ecco che arriva! Go! È pieno di moccio! Questo non me lo aspettavo! Oh! Julie sarà malata! Mmm! Avevo così tanta sete e ho finito! Cos'è questa plastica? Non prendo la plastica io! Eh? Ma che cosa sta succedendo? Prendile e basta! Non stai ascoltando! Niente plastica! Voi gente non capite! Uh-huh! Sto perdendo la pazienza! Accidenti! Ok, come vuoi! Prendi! Finalmente ne ho presa una! Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato! Com'è soddisfacente! Una bella giornata, eh? Miam! Ho qualcosa da mangiare qui dentro! Quanti anni avrà? Ecco! Nell'immondizia vai! Sono stata proprio brava a romperlo, vedi? Aspetta un attimo! Non volevo farlo! Questa è la cosa migliore che io abbia mai assaggiato! Ma com'è noiosa questa lezione! Ho bisogno di qualcosa che mi trattenga fino a pranzo! Non siamo ancora nemmeno alla metà! Mmm! Che buon sapore! Mi sento come se ci fosse una festa nella mia bocca! Improvvisamente mi sento felice! Scommetto che potrei fare una bolla grande quanto la mia testa! Wow! Ma quella è una faccia! Inquietante! Forse ho masticato troppo! Eh, vabbè! Oh! Eh! Ciu! Wow! Cosa è successo? Eh! Cavolo! Non va affatto bene! Forse posso prenderla! Si è appiccicata per bene! Vorrei tanto avere del burro di arachidi! Oh! Oh! Sembra che stai anche troppo bene lì dentro! Come farò adesso? Potrei tagliarla via! Sarà troppo folle! Eh! Sto soffocando qui dentro! Dovrò fare molto piano! Niente movimenti bruschi! Eciu! Penso di aver tagliato troppo! Cosa sta succedendo? Oh! Sei così bella, Julie! Mio tesoro! Oh! Wow! Non dovrò mai scoprirlo! Non glielo dirò mai! I miei capelli sono bellissimi! Ma certo! Oh! Non dare alla papera un boomerang! Oh! Già la sveglia? No! Io dormo ancora! Sveglia! È ora di alzarsi! Ho detto alzati! Dov'è il tasto Posponi? Ma che? Non ti sei ancora alzata! Da! Oh! La campanella! La lezione è finita! È ora di dedicarmi ai miei capelli! Ecco fatto! Molto meglio! Che schifo! Meglio pulire la spazzola! Oh! Che bella sensazione! Oh! Chloe ha una spazzola! Ehi! Me la presteresti? Oh! Mmm! No! Sono la tua spazzola! Ok! Ecco a te! Grazie! Ho i capelli così in disordine! Meglio! Ecco la tua spazzola! Che schifo! Ci sono i suoi capelli! Grazie ancora! Ti avevo detto di non prestarmi! Troppi capelli! Evviva! Sono pulita! Ha davvero perso tanti capelli! Chloe! Adoro stare insieme a te! Vuoi accettare questo anello? Bling! Guardatemi! Sono così bello! Oh! Cavolo! C'è una macchia! Meglio pulirlo! Oh! Che stai facendo? Sono già scintillante! Oh! Ecco che arriva! Ciao! Scusa il ritardo! Chloe! Ti ho preso questo! Ehi ragazza! Sarò bellissimo al tuo dito! Oh mio Dio! Wow! Posso mettertelo al dito? È un sogno che diventa realtà! È così bello! Ti avevo detto che ci sarei stato benissimo! Wow! Com'è brillante! È ora di rilassarsi un po'! Mi piace avere i capelli puliti! Bene! È ora la messa in piega! Sono qui per asciugarti bene! Ok! Aumentiamo la potenza! Ora sì! Vai così! Wow! È davvero... Forte! Ok! Penso che sia sufficiente! Che getto potente! Ma almeno sono asciutti! Ottimo! Dovrei vestirmi! Ricordate quello che ho detto sui protozoi! Dov'è il gesso? Dov'è essere qui da qualche parte! Forse è dietro la pianta? Nemmeno lì! Eppure deve essere qui! Oh, eccolo! Vicino alla lampada! Cavolo! Mi ha trovato! Ok! Torniamo alla lezione! Lo odio! Quel rumore è insopportabile! Mettimi giù! È incredibile! Insopportabile! Bene! Ci siamo! Che fatica! Che fatica per lui! La mia povera testa! Sono completamente calvo! Odio il dentista! Sembra che la via sia libera! È l'ora di uno spuntino! Ehi! Ti va un biscotto? Oh, va bene! Grazie! Mi aiuterà a calmarmi! Sono in una bocca! È ora di creare scompiglio! Ai! Il dente! Vediamo di ristrutturare un po' l'ambiente! Fantastico! Dovevo fare l'architetto! Stupido biscotto! Oh, ti ha fatto male, vero? Scusa! Prossimo paziente! Che giornata orrenda! Forse è meglio di no! Non sono sicura mi stia bene! No! Forse questo maglione? O questa? Ah! Odio tutti i miei vestiti! Perché mi butta le cose addosso? No! Oh no! Ne sta cercando altri! Oh! So cosa indossare! Non farlo! Non ne posso più! Ehi! Ehi! Mi hai fatto cadere! Bene! Ho trovato l'outfit giusto! Oh! Che ora è? Oh no! Non è possibile! Ho dormito troppo! Arriverò tardissimo! Devo prendere i libri! Forza! Entrate lì dentro! L'ultimo! Mi stai prendendo in giro? Sono pieno! Oh! Quasi dimenticavo! Forza! Entra! Niente da fare! Non ci riuscirai! Sono pieno! Oh! Dentro! Oh! Quanto pesa! Forse se lo porto così... Mi serve che tu venga con me! Forza! Siamo in ritardo! Avresti dovuto ascoltarmi! Ah! Che mattinata infernale! Forse dovrai rinunciare! Sì? A che ti serve la scuola? Guardiamo la tv! Oh! Questo libro è incredibile! Wow! Che lunga giornata! Farò un bel pisolino! Ma che... Perché la luce sfarfalla? Che strano! Devo solo restare sveglia ancora un po'! Ehi! Luce! Tutto bene? Oh! Scusa! Sono sveglia! Così va meglio! Mi stai prendendo in giro? Scusa! Scusa! Ci sono! Ci sono! Questa luce mi sta facendo impazzire! Wow! Guarda un po'! C'è una festa stasera! E sembra che siano tutti invitati! Ci andrò sicuramente! Meglio controllare il trucco! Mi fa il solletico! Mi fa il solletico! Gio! Molto bene! Ottimo! Andiamo! Questo club è incredibile! Il DJ è davvero in forma stasera! Mi serve una pausa. Una sprite, per favore. Nessun problema, ecco. Questa canzone è stupenda. Oh, cavolo, il rossetto è sul bicchiere. Ora mi tocca rimetterlo. Meno male che ce l'ho sempre con me. Salve, come posso aiutarla? Oh, una tela bianca. Darò il mio meglio. Questo colore è eccellente, se posso. Mettiamone un altro po', per essere sicuri. Come va? Hai del rossetto sui denti. Oh mio Dio, che imbarazzo! Rossetto su tutti i denti. Ci vuole una bella doccia. Così mi rinfresco un po'. Proprio a ciò che mi serviva. Meglio lavare anche i capelli. Oh, che bella sensazione. Uh, schiuma party! Yuhu! Un po' di questo e poi questo. Nessuno fa la schiuma meglio di me. Ehi, guarda laggiù! Arrivo! Oh, ma che diavolo! La mia voce suona benissimo qui dentro. Aspetta, scusa per l'occhio. Pulito e rinfrescato. Bene, vediamo le unghie. Andiamo, mostramele. Ragazza, sono un disastro. Posso sistemarle. Per prima cosa, li mi amo. Essere un unghie è noioso. Che barba. No, via da qui. Ah, basta! Mi stai rovinando il look. Credo che dovrò abituarmi. Ok, da un'occhiata. Wow, molto meglio. Penso sia il momento di cambiare colore. Ammetto che mi sento meglio. Che diavolo è questo? Questo colore ti starà benissimo. Facciamolo asciugare. Questa sì che è vita. Ehi, che è successo alla luce? Le adoro. Sono fantastiche. Ecco a te. Che fantastica giornata di shopping. Non vedo l'ora di guardare i miei acquisti. Prima questo. Che profumo fantastico. Proviamolo di nuovo. Wow, dove sono? È così buio qui dentro. Ehi, quello è nuovo? Ciao, sono Profumo. Giù. Tienilo per te, amico. Scusate. Assicuriamoci che i capelli siano asciutti. Sembrano a posto. Aspetta. Che cosa... Sono peli del naso? Che schifo. Devo toglierli subito. Mi sa che farà male. Molto bene. Adesso ti prendo. Forza. Fuori di qui. È dura. Mi serve un appoggio. forza. Forza. Fuori. Esci. Preso. Che schifo. Avevo noieti nel naso. Ora sembro a posto. Che stanchezza. Vediamo. Dove sono le mie lenti? Perfetto. Dentro. Wow. È pieno di luce qui. Meglio andare di qua. Che male. Ok. Riproviamo. Stavolta da questa parte. Dai. È ancora peggio. Ok. Riproviamo. Funzionerà. Oh. Ho capito. Così. l'ho messa? Grande. Adesso finalmente ci vedo. È ora di radersi. Oh. Kevin mi sta chiedendo di uscire. Meglio che mi prepari. Questo è il colore giusto. E naturalmente il mio nuovo profumo. Che buono. Oh no. Rimane solo una cosa da fare. Non ho altra scelta. Eyeliner. Il mio nemico numero uno. Ok. Forse questa volta. Piano piano. Grande. È venuto perfetto. Ma ora tocca all'occhio difficile. Boom. Ti ho spaventata. Non è divertente. Sì che lo è. Soprattutto la faccia che hai fatto. Smettila. Se no sono guai. Ok. Riproviamo. E' il momento della sfilata. Andare in passarella è facile. Oh oh. C'è polvere nell'aria. Sto andando bene. È giù. Aiuto. Mi prendi in giro. Meglio scappare. Oh ma guarda quanti cosmetici. Sai che sono perfetto per te. Salve. Hai ragione rossetto. Meno male che ho la carta. Voglio questo rossetto per favore. Oh quanto mi piace acquistare cosmetici. Evviva andremo in una nuova casa. Perfetto. Sto proprio bene. Chissà se manca qualcosa. Nah. Sto a posto. Ehi. Lo sai che vuoi dei glitter. E dai. Un po' di luccichio. Ok. Male non farà. Oh ma com'è bello. Un pochino soltanto. Ok. Cominciamo. Bene. La quantità giusta. Evviva il glitter. Sai che ne vuoi ancora. E dai. Fare colpo su tutti. Oh. Non ne sono sicura. Ancora. Sì. Ancora glitter. Glitter. Ma è dappertutto. Ok. Ok. Ma solo un pochino. Sì. Adesso stai molto meglio. Ma non è troppo. Adesso sì che va bene. Ah ah. Glitter. Le cose mi stanno sfuggendo di mano. Adesso sei la regina del glitter. Beh ormai è tardi. Accidenti. Oh no. Non va bene. Sì. Proprio così. Ti serve ancora. Esatto. Devi far vedere al mondo come risplendi. Oh cavolo. Non ne sono sicura. Ok. Mi fido di te. Tira fuori la regina che è in te. Salve. Wow. Quanto glitter. Ti sta bene? Che cosa ho in faccia? È glitter. Come lo tolgo? Mi dispiace. È dappertutto. Il re del glitter. Che giornata. Oh glitter. Sei tremendo. Forza. Andiamo a cena. Cos'è quella luce? Non ci vedo. Aia. I miei occhi. È troppo. Beh. Almeno noi ci stiamo divertendo. Magari possiamo tornare insieme. Oh. Com'è romantico. Amore. Ora baciami. Wow. Si amano così tanto. Eh no. Ora basta. Come vorrei avere qualcuno che mi amasse così. Non è giusto. Perché ci siamo lasciati? Oh wow. Guarda. È bellissimo. Così rosso. Ciao. Oh. Eh no. Non devi rimanere conciata così. È triste. Ecco ti un altro fazzoletto. Senti. Sai cosa ti farà stare meglio? Esatto. Un po' di rossetto. Ti darà forza e ti riprenderai subito. Ecco. Quel rosso ti sta troppo bene. Avevi ragione. Mi sento già meglio. Oh. Il telefono. No. È un messaggio di Joe. Non dovrei rispondergli. Eh no. E dai. Ci prepareremo per vedere Joe. Il pigiama non va bene. Sì. Molto meglio. Sei bellissima. Arrivo. Ciao Claire. Wow. Stai benissimo. E quel rossetto ti sta da dio. Sì. È questo qui. Bello. Fammelo provare. Oh sì. È perfetto. Mi dona. Wow. Sei fantastico. È spettacolare. Bis. Bis. Questa canzone è per i miei fan. Ti amo. Dacci dentro. Lo farò. Canterò con l'anima. È lo spettacolo migliore di sempre. Joe. Sono felice che tu sia mio amico. avanti Claire. Sali quassù con me. Sì. Ma certo. Balliamo insieme per sempre. I miei capelli fanno ciò che vogliono oggi. Accidenti. Stai calma. Come faccio? Guarda che capelli. La soluzione è sempre la stessa. La lacca. Ma li voglio naturali. Devi scegliere tra queste e i capelli selvaggi. Ok. Sì. Esatto. Altra lacca. Basta. Fammi controllare. Questo lato va bene. E quest'altro? Ok. Serve altra lacca. Soprattutto sopra. Ma è troppa. Te ne serve tanta. È l'unico modo. Ancora. Ancora. Non ci siamo. Sì. Adesso staranno fermi. Adesso nulla potrà fermarti. E staremo insieme per sempre. Avevi ragione. Mi piace avere i capelli a posto. Oh no. Cosa sta succedendo? Sto perdendo la presa. Mi dispiace. Ah. Ma che cavolo? Beh. Ne serve dell'altra. No. No. È finita. Bene. Guarda come sono conciata. Accidenti. Ho sbagliato. Beh. Allora lavorerò a quest'occhio. Oh. Ho sbagliato anche quello. Ma dai. Dallo a me. Adesso ti sistemo io. Oh sì. Audace. Uh. Fammi vedere. Oh. Oh no. È troppo. Che cosa? È che sono enormi. Non esistono ciglia enormi. Non sono convinta. Sei sicura? Ma certo che lo sono. E buona giornata. Uh. Sarà meglio rimettere il mascara. È più facile da applicare su ciglia così lunghe. Ok. Adesso sono pronta. Sì. Ora può entrare. Salve. Ci vorrà soltanto un minuto. Sono felice di essere qui. Accidenti. Da dove arriva questo vento? Oh no. Mi dispiace. È stato un incidente. Eccolo di nuovo. Ma è un disastro. Fuori dal mio ufficio. Ok. Va bene. Devo solo trovare la via d'uscita. Davvero ridicolo. I telefoni sono ovunque. E per una buona ragione. Sono così utili. Ma cosa succederebbe se i nostri telefoni fossero delle persone? Questo renderebbe le cose più facili o più difficili. Le mie unghie sono così lunghe. Le adoro quando fanno quel ticchettio. Soprattutto sul vetro. Ciao telefono. Come stai oggi? Ok. Devo inviare questo messaggio. Au. Smettila. Mi fai male? Oh. No. Non mi piace. Ehi. Ma cosa sta succedendo al mio telefono? Qualcosa di strano sta accadendo. Il mio telefono si è trasformato in una persona. Eh. Ciao. Io sono Julie. Beh, dunque, ora sei una persona. Eh già. Ma ho ancora i miei pulsanti. Ah. Io adoro fare shopping. Aspetta. Oh no. Dov'è il mio telefono? Forse è in uno dei sacchetti. No. L'avrò perso. Aspetta. Scommetto che è qui. Cavolo. Dove può essere? Telefono. Dove sei finito? Aspetta. Ce l'avevo quando ero in auto. Julie, quanto mi piace fare shopping insieme a te. Oh. Allora ciao. L'ho lasciata in auto. Ehi. Un pettine. Adesso posso farmi i capelli. Wow. Mi piacciono molto. Sì. Mettiamo un po' di musica. Oh. Kylie mi sta inviando un messaggio. Oh no. Come vibro. Wow. Ha mandato un sacco di messaggi. Oh no. No. Kylie si sta preoccupando. Non mi piace più stare qui in macchina. Vorrei che qualcuno venisse a salvarmi. Telefono. Telefono. Oh. Meno male. Mi dispiace così tanto. Adesso ti tolgo da qui. Fiu. Sono così contenta di averti trovato. Telefono. Telefono. Stai bene. L'ha presa per la ricarica. Adesso devo trovare dove attaccarla. Oh. Una mela. Potrebbe andare. Forza. Telefono. Torna da me. Oh. Ciao Julie. Mi dispiace telefono. Continua a ricaricarti. Bene. Oggi è il grande giorno. Telefono mi serve il tuo aiuto. Puoi mandare gli inviti per favore. Ottimo. Grazie. Puoi andare. Ciao. Ho un messaggio per te. Eccolo. Ciao. Ecco quello successivo. Salve. Salve. Cosa succede? Ecco un messaggio per te. Ciao. 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 Tu. Messaggio. Tu. Ciao. Messaggio. Tu. Ciao. Ho capito. Grazie. Allora ciao. Ciao tu. Messa tu. Scusami, cosa? Oh. C'è una festa stasera. Eccellente. Wow. Sei così strano. Vattene adesso. Addio. Ciao. Addio. Telefono. Sei tornato. Oh. Stai messo male. Tutto bene? Sì, sto bene. Sono solo stanco. Ma che strano. Oh. Entra subito. Ciao. Il mio telefono ha dei problemi. Potresti aiutarmi? Ma certo. Posso sistemarlo io. Oh. Meno male. Telefono. Vieni. Questa bella signora ti aiuterà. Wow. Sì. Non stai messo affatto bene. Accidenti. Ok. Mettiamoci al lavoro. Stai tranquillo. non farà male. Io vedo che hai un sacco di problemi. Dunque, ora come ti senti? Mi sento molto meglio. O meglio io. Accidenti. Oh. Sta messo male. Troppo per me. Telefono. Come ti senti? Accidenti. Sei ancora messo male, eh? Ok. Devo prendere una decisione. Sì. Ma è perfetto. Oh. E che velocità. È ora di aprirlo. Chi? Cosa quello? Ciao, Julie. Wow. Chi è quello laggiù? Sono il teletelefono di Julie. Ora capisco perché avevi bisogno di un nuovo telefono come me. sono così contenta di averti nuovo telefono. Sarà buonissimo. Così delizioso. E adesso mi serve un po' di cioccolato. Quanto mi piace il cioccolato. Buonissimo. Mi piacciono troppo i dolci. E ora il barattolo pieno di lecca-lecca. E guarda quella bella mela. E che odore. Oh. Ho un'idea. Gnam. Zucchero. Quanto mi piace. Ecco qua. È il numero di Julie. Julie, ti stanno chiamando. Cosa? Chi? È la nonna. Devo nascondere i dolci. Ok, sono pronta. Rispondiamo. Ciao, nonna. Come stai? Julie, guarda. Ho una mela per te. Oh no. Ma grazie, nonna. Ho capito. Ma io ho qualcosa di migliore. Un'arancia. Fa niente. Non ho fame. Telefono, aiutami. Julie? Julie? Ci sei? Oh, questi telefonini moderni. Cavolo. La sentirò più tardi. Ci mancava poco. Grazie, telefono. Oh, c'è qualcuno alla porta. Vado io ad aprire. Ah? Julie! Ti ho portato un'insalata. Oh, nonna. Ma grazie. Sì, adesso posso mangiare sano. Ok, telefono. Mi devi dire quando sono le sette. Non devo perdere il test inglese. Ok. E ora devo studiare. Sarà un vero secchione. Andrò benissimo al test. I verbi sono stati fatti per... Sono le sette. È l'ora del test, Julie. Telefono. Stai facendo un gran casino. Ah, ok. Fammi provare questo. Julie? Julie! Ti devi svegliare. Ok, mi dovrò coprire le orecchie. Julie! Svegliati! Svegliati! Non dovresti dormire. Forza, svegliati! Wow, ma che bella musica che sommettere. Dovrei diventare un musicista. Grazie, grazie. Siete i migliori fan. Oh, mi stavo dimenticando. Julie! Ok, la devo svegliare per forza. Oh, com'è pesante. È del tutto inutile. Aspetta se le tiro le gambe. Julie, forza! Telefono, forza, sei più forte di così. Oh, sono un fallito. Wow, che sonno! Accidenti, che dormita. Sto da Dio così riposata. Aspetta, che ore sono? Il test! Ecco il mio test. Eccellente. Ottimo lavoro, ragazzi. Julie, sei in ritardo. Guarda l'ora. Abbiamo terminato col test. Ma non mi ha suonato la sveglia. Ho studiato così tanto. Ehi, scusa. Sto solo cercando di tenere la porta aperta. Cosa faresti con il tuo telefono se fosse una persona? Facci sapere nei commenti e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo.